È sempre l'emozione del primo giorno, sempre una grande emozione mista, un grande senso di responsabilità, soprattutto per le condizioni del nostro paese. Quindi speriamo bene, è un primo giorno un po' particolare, visto che il futuro, quello che succederà non è chiaro e quindi aspettiamo fiduciosi e speriamo bene. Ha lasciato qualcosa in sospeso dall'altra legislatura? Beh, un sacco di proposte di legge a cui tenevo molto, una in particolare che riguarda i familiari di vittime innocenti di mafia e terrorismo e spero che sia questa la legislatura utile per approvare finalmente cose buone e giuste per gli italiani e per il paese, a cominciare da un tema a cui tengo molto che è la lotta a tutte le mafie e il terrorismo. Per concludere un parlamento più giovane, contenta? Beh, finalmente direi, pieno di donne e pieno di giovani e questa è una gran bella notizia, quindi mi fa ben sperare e ben pensare per il futuro.